La Commissione europea ha avviato un'azione legale nei confronti della società AstraZeneca per mancato rispetto del contratto e violazione degli accordi di acquisto anticipato dei vaccini anti-Covid. Alcuni termini del contratto con AstraZeneca non sono stati rispettati. L'azienda non è stata in grado di elaborare una strategia affidabile per garantire la consegna tempestiva delle dosi. Ciò che conta per noi in questo caso è la sostanza. Vorremmo quindi che un numero sufficiente di dosi per tutelare la salute dei cittadini europei venga consegnato il prima possibile, come previsto dal contratto. L'azione legale è stata avviata venerdì scorso a nome dei 27 Stati membri. Tutti concordi nel sostenere questo procedimento. Il contratto europeo con AstraZeneca la scorsa estate prevedeva 300 milioni di dosi. Finora sono state erogate solo 30 milioni di dosi nel primo trimestre. Ma l'azienda, che ha risposto di aver soddisfatto il contratto di fornitura, ha promesso di mettersi in riga e di consegnare 70 milioni di dosi nel secondo trimestre.